Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come creare dei bicchierini di plastica personalizzati da utilizzare nelle feste. Io vi farò vedere semplicemente come creare dei bicchierini non utilizzabili, oddio, si possono comunque utilizzare, ma io li sto facendo solo per abbellire il tavolo della torta, in quanto non sono riuscita a trovare dei bicchierini a tema Baby Shark. Allora, innanzitutto, la prima cosa che dovete fare è scegliere il bicchiere che volete utilizzare. Io ho scelto i classici bicchierini piccoli da caffè. Qua vi faccio vedere intanto quelli che già ho fatto. Come vedete vengono particolarmente carini e appunto io li sto facendo non tanto per bere qualcosa, ma solo per abbellimento del tavolo al massimo metterò dentro delle caramelle o, non so, dei cioccolatini, qualcosa sempre da mangiare o delle lecca lecca, qualcosa del genere. Allora, dopo aver scelto il bicchierino che volete utilizzare, prendete uno scottex, questo video non era in programma, anche perché è tantissimo che non ne faccio, quindi mi sto ritrovando a registrare così che già, diciamo, avevo iniziato a... mi suona il telefono. Dicevamo, dopo aver scelto il bicchierino che volete appunto utilizzare, prendete uno scottex molto 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 morbido e andate ad arrotolarlo nel bicchierino. Questo vi servirà per creare una sagoma esatta e perfetta in base appunto al modello di bicchiere che volete andare ad utilizzare. Ok. Fatelo aderire più bene possibile e con una penna andate a tracciare la sagoma del bicchiere da sotto il bordo. Alla fine del bicchiere quindi manteniamoci comunque circa 2-3 mm sopra dalla fine del bicchiere. Essendo comunque, diciamo, dei bicchierini fatti totalmente a mano, sicuramente non verranno perfetti come quelli che già vendono pronti in cartone, ma ripeto, se volete voi un personaggio che non riuscite a trovare, questa è l'unica soluzione. Ok. Ora, con la farbicina potete andare a ritagliare la vostra sagoma. E ovviamente, questa qua già è ritagliata, andrete ad avere una sagoma perfetta che poi, poggiandola nel vostro bicchierino, lo andrà a ricoprire tutto perfettamente. Ovviamente nel ritagliarla dovete allungarla un pochino in modo tale da poter fare il TAC e da poterla chiudere con la colla. Poi, logicamente, vi dovrete emulire di stampante, di computer, di cellulare, quello che è. Dovrete andare a cercare le immagini del vostro personaggio preferito, nel mio caso appunto Baby Shark. Sono andata a prendere varie immagini, come potete vedere, e le ho stampate in un foglio a quattro. Ora, purtroppo, le ho ritagliate tutte involontariamente, perché, ripeto, non è la mia intenzione fare il video. Comunque, in ogni foglio a quattro ho messo quattro immagini di Baby Shark. Le immagini erano praticamente messe così, per farvi capire. Ecco qua, poi ho ritagliato il foglio per una questione di praticità. Logicamente devono andare ad essere molto più grandi di quello che avete fatto voi. Se quindi andrete ad utilizzare un bicchiere di plastica di quelli grandi, vi consiglio di stampare massimo tre immagini per a quattro. Se invece utilizzate i bicchieri di questi qua, piccolini di alaffè, potrete fare in tre benissimo quattro immagini per a quattro. Quindi lo dovete andare a stampare e poi lo dovete ritagliare in questo modo per fare prima. Figuratemi che a me nella stampante mi era terminato il colore nero, quindi gli occhietti non erano venuti colorati e li ho dovuti ripassare io con un pennarello. Infatti, come vedete, la parte interna si vede che ho utilizzato un pennarello a spirito. Dopo poggiate tutti ben allineati in questo modo e poggiate sopra la vostra sagoma in modo tale da poter prendere nel miglior modo possibile tutti i personaggi. Ok. Ovviamente, se avete difficoltà di stampa, potete anche scannerizzare la vostra sagoma e poggiarla su un foglio A4, andarla a scannerizzare, così vi verrà meglio prendere le misure per adagiare, per inserire le immagini nel vostro appunto A4. Ok. E ora facendo attenzione a non far muovere il foglietti, cioè per sicurezza ovviamente voi lo potete fare anche immagine per immagine, ma se dovete fare una media di 20, 30, 40 bicchierini, vi consiglio di andarmene un po' alla sbrigativa. Tanto, ripeto, essendo una cosa fatta manuale non potrà mai venire perfetto come quelli prestampati. e quindi andiamo a ritagliare. Io comunque sto registrando del tutto con il cellulare che è appoggiato nel ripiano superiore della scrivania, quindi spero che stia registrando tutto con una buona visibilità e con le mie mani abbastanza centrate. Prendiamone uno e poi foglietto per foglietto dovrete andare ad adagiarlo sul vostro bicchierino. Come vi ho detto prima, io mi sono mantenuta con l'immagine più lunga in modo tale da poter fare il risvoltino. Quindi se è troppo lungo lo spazio per l'attaccatura si può anche ritagliare un pochino. Dopodiché andiamo a mettere un po' di colla. Io uso una semplice colla stick perché, ripeto, non è che per forza deve essere attaccato, proprio appiccicato perfetto perché nessuno ci andrà a bere in questi bicchieri, sarà solo una cosa decorativa. E poi, ripeto, volendo si ci può anche bere però preferirò io mettere solo delle caramelle o lasciarli anche semplicemente vuoti. Soprattutto nella chiusura la colla. Poi adagiamo nel nostro bicchiere facendo aderire nel miglior modo possibile. Ok, et voilà. Andiamo a appiggiare per far aderire la colla. Assendo la colla stick ci sta un pochino ad appiccicare. Ok, e il nostro bicchierino è pronto. Ok, 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 ok. Poi più di colla stick ci sta un pochino ad appiccicare. Grazie.